Sto ammattando di botte. I tre sono scappati mentre il ferito è rimasto a terra con la gamba spezzata. Indaga la polizia. Caorle. Grave incidente stradale poco dopo le 7.30 in via Sansonessa. Un ciclista di 85 anni è stato investito da un camion che aveva appena ultimato le operazioni di rifornimento di un supermercato. Il mezzo pesante si è immesso in strada nel momento in cui sopraggiungeva l'uomo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo all'ospedale di Mestre. La prognosi è riservata. Mestre. Minaccia la madre con un coltello per avere i soldi che gli erano necessari a procurarsi la dose. A nulla era servito l'ammonimento del questore che lo invitava a cambiare stile di vita e a smettere di molestare l'anziana madre. E dopo l'ennesimo episodio un cinquantenne tossicodipendente è stato arrestato dalla polizia. Due gli episodi recenti che gli vengono contestati. Venezia. Avevamo solo 10 centesimi quando sono stati catturati dal cameriere che li ha rincorsi. Due ragazzini veneziani si sono giustificati così. Dopo aver cenato a base di pesce al ristorante in piazza della Vittoria a Treviso sono scappati di corsa. Ma la loro fuga è durata poco. Saranno denunciati.